e ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video allora oggi vi mostro come ho dato nuova vita un pacco batterie di un tassellatore de valt è un pacco batterie con celle e lidio però 26 650 non 18 6 e 50 e allora il pacco batterie nuovo costa intorno alle 300 400 euro e ci sono modelli diciamo compatibili cinesi che costano 350 euro la coppia comunque io avevo questo in mano me lo hanno portato appunto per dare un'occhiata allo smontato vedi come è costruito internamente a una scocca in plastica bicolore giall e nera appunto i colori de valt e smontando il coperchio mi sono ritrovato una bms che è quella di metallo più sotto tutto il pacco batterie qui ho smontato il bms e questo è il pacco batterie con le celle 26 650 interconnesse tutte in serie montano due placchette plastiche laterali il bms eccolo qui e questo qui di metallo e il problema ragazzi in questo pacco batterie si è rivelato cioè io inizialmente pensavo fosse un problema di qualche cella fusa cella rotta non andava più invece no no non è stato così le celle erano tutti ok anche se un po scariche però comunque tutti ok dopo qualche oretta di test come vedi o quel video è velocizzato tantissimo però io ci ho messo più di un'oretta buona per arrivare a capire quale fosse il problema e quale soluzione potessi andare a utilizzare per far ripartire questo pacco batterie alla fine comunque la soluzione che ho buttato per forza maggiore perché ovviamente per forza maggiore perché una bms originale come quella che vedi è introvabile non è semplice andarla a reperire in più le connessioni di uscita del bms sono quelle che vanno a connettersi con il tassellatore perciò con i contatti che alimentano il tassellatore detto questo ragazzi ho dovuto eliminare completamente il bms è ovviamente andarne a mettere uno nuovo perché perché il circuito era composto da dieci celle serie perciò dovuto mettere un nuovo bms per potermi andare a gestire carica e scarica e in più il funzionamento dell'elettro utensile il bms che ho scelto è stato un 20 nominali 25 ampere massimali e fatte tutte le varie saldature ora sto provando le tensioni delle celle un'altra volta l'ennesima volta ho richiuso tutto il pacco con i canci diciamo le i socket neri laterali ecco qui misurando i vari voltaggi così da avere certezza di come sono stati diciamo connessi in serie perché quando vai a collegare la bms non puoi assolutissimamente sbagliare se sbaglio a collegare la bms si brucia in tempo zero e rischi di prendere anche fuoco perciò presa la bms io vado comunque avanti nel raccontarti perché purtroppo poi il video si interromperà perché mi è terminata la memoria sull sd non me ne era accorto io continuavo a lavorare però la camera non registrava infatti non ha registrato perciò ti dico quello che ho fatto ho sostituito il bms me sono nuovo cablati tutti i cavetti di bilanciamento cablati cavetti di uscita positiva e negativo di potenza il problema che è nato a questo punto era che la bms funzionava il pacco batterie è rinato è tornato nuovamente a funzionare anche come dio se come ti ho detto erano tutte scariche le celle il problema che mi è sorto successivamente è stato quello del connettore per innestarlo sull'elettro tensile perché il connettore madre che era quello a bordo della vecchia bms non lo potevo andare a prendere non lo potevo andare a prendere perché perché e mi suona sempre il telefono e va bene non lo potevo andare a prendere perché perché era chiuso sigillato sotto una colata di resina ipossidica e perciò devalt cosa ha fatto ha preso la elettronica ha messo un contenitore in alluminio per aiutare la dissipazione di questo bms perché i ragazzi di potenze di correnti ne richiede a voglia infatti io con questa 20 25 ampere il tassellatore alla fine funziona alla perfezione però si sente che se ci fosse più corrente e lui andrebbe molto più forte perciò se qualcuno vuole fare una riparazione simile se può abbondare col bms meglio che abbondi riscaldare mi riscalda se mi riscalda il 20 20 25 ampere mi riscalda però non eccessivamente comunque per le dimensioni alla fine era comodo qui vedi come è stato cablato il tutto ragazzi dato di fatto finale la batteria il pacco batterie ha ripreso vita funziona nuovamente non era problema delle celle ma era problema della bms io ho risolto così ho inserito tutto dentro il contenitore originale e niente per questo video ragazzi è tutto mi raccomando se sei interessato alla tecnologia batterie litio customizzazione batterie riparazione batterie non solo elettrotensili ma anche monopattini biselettriche scooter e perché no ragazzi auto elettriche questa tecnologia una tecnologia che si interfaccia con tantissimi e tantissimi utilizzatori scopi power bank qualsiasi cosa monti batterie a litio grazie al corso tecnico battery maker potrai studiare capire applicarti in una nuova nuovissima tecnologia che porterà e anzi porta ad oggi tantissimi nuovi posti di lavoro perché ci sono chi vendono questi prodotti ma ragazzi non ci sono chi li ripara non ci sono chi è capace di ricostruirli e io nel mio corso ti darò tutte le basi e non solo parleremo anche del comparto tecnico strumentazione e laboratorio e normative e leggi e partita iva e madre dove acquistare la materia prima ti fornirò alcuni miei listini prezzi alcuni miei fornitori e tanto 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 altro ancora iscriviti al gold member mi raccomando clicca sotto in descrizione trovi tutti i link a tutti i miei siti web vai se vuoi anche su amazon e cerca i fascicoli tecnici cartacei sono disponibili per varie tipologie di batteria per esempio 3s 6s 7s 10s anche per fotovoltaico fusibili eccetera eccetera sono fascicoli davvero carini utili e perché no collezionabili ragazzi per questo video è tutto lasciami un commento se ti è piaciuto e mi scuso se non vi ho potuto mostrare il tassellatore in funzione ma purtroppo la telecamera non ha registrato ciao e al prossimo video